Si aggravano le difficoltà delle case di riposo della provincia di Cremona, come riferiscono molte segnalazioni di lavoratori e familiari. I sindacati hanno inviato una lettera ai direttori degli istituti per anziani per sapere quando saranno acquistati e distribuiti dispositivi di protezione come le mascherine antivirus FFP2 e i guanti, ma soltanto due hanno risposto. Busi di Casal Maggiore ha fatto sapere di aver contato già 16 deceduti con Covid-19, mentre tante altre case di riposo sono in gravi condizioni con diversi dipendenti in quarantena. Drammatica la situazione di tutti gli istituti del Cremonese, del Cremasco e del Casalasco, anche perché i tamponi non vengono fatti, i protocolli non sarebbero stati subito attuati, i pazienti sono i più fragili per età e gravi condizioni di salute. Oltretutto la regione ha iniziato a trasferire negli ospizi diversi malati di coronavirus dimessi dagli ospedali ormai stabilizzati. È il caso della casa di riposo, benefattori cremaschi di Crema, che ha già preparato 30 posti letto per i malati contagiati, separati dagli altri ospiti e con personale dedicato. La principale difficoltà riguarda il personale per numerose assenze che arrivano a sfiorare il 50%. Il consigliere regionale Marco degli Angeli del Movimento 5 Stelle ha scritto già più volte all'assessore regionale Giulio Gallera per chiedere provvedimenti. Nessuna ispezione è stata fatta, nessun accesso agli atti è possibile in tempo d'emergenza, non si svolge nemmeno il consiglio regionale. Sul territorio, neppur la TS di Cremona, impegnata nell'emergenza, ha dato risposte né preso provvedimenti. Ci sono delle segnalazioni di alcune RSA della mia provincia, della provincia di Cremona, dove vi leggo proprio i numeri per non sbagliare. Sette pazienti su 63 sono già deceduti, 15 pazienti hanno la febbre alta, ci sono 11 ASA che è l'operatore sanitario su 28 a casi malattia e per esempio in questa struttura non è stato effettuato mai nessun tampone. Questi numeri solo per darvi un piccolo esempio, in una piccola struttura, quello che è il numero e l'evidenza di questa emergenza.